che bello aia ok qua è bellissimo camminare sull'assalto è liscio da 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 che bello si può anche fare anche salti si può fare di tutto e si può anche fare quello che fa Michael Jetson il more working poi bisogna fare attenti alle pietre ovviamente tutto adesso è bello ciao